A partire dalle ore 15 in diretta streaming e sul digitale terrestre sul canale SS3 e SudTV la seduta e videoconferenza del Consiglio Comunale di Battipaglia. È la prima volta che viene svolto in streaming, ovviamente per il coronavirus, che è il tema che sarà approfondito nell'arco della seduta consigliare, spiegando cosa è stato fatto, ma anche le azioni messe in campo per le prossime fasi dell'emergenza.